ma cosa ho sognato dark orbit dark orbit in 3d ma no era solo un sogno dark orbit 3d non esiste ma che cosa sto facendo? è solo un vecchio gioco beh almeno non costa niente provare ok facciamolo forse ho sbagliato nella ricerca proviamo così cazzo ma allora esiste non era un sogno devo assolutamente logare su dark orbit adesso wow ma allora è tutto vero ma è veramente una figata allora wow i bei vecchi tempi si è cambiato veramente questo è lo shop no ti prego era un sogno ma certo è ovvio che era un sogno dark orbit 3d non esiste certo e sono veramente uno stupido che sogni vado a fare la granata normale ha questo range duro è normale poi hanno fatto con questa patch lurida la granata rossa che ha questo range cioè becca tutti quello dietro ai muri quello dietro ai muri tuuuu ciao ciao